E ciao a tutti ragazzi, sono io, sono il K300 e bentornati in questo nuovissimo video di Fortnite Oggi andremo a vedere delle cose interessanti Per prima cosa volevo andare nell'item shop per andare a vedere il pacchetto di oggi Non so se avete presente il pacchetto di oggi che è uscito ufficialmente nello shop E' quello là di uno youtuber strano che onestamente, di verità, non so neanche chi sia Aspettate un secondino che devo abbassare qua Ok, dovreste sentire correttamente un pochettino di audio Allora se andiamo nell'item shop possiamo vedere una cosa spettacolare Prima di andare avanti, perchè oggi parleremo del punto zero Ovviamente questa qua sarà una settimana Dove si parla? Ma che che? Errore tecnico, non doveva accadere Torniamo nell'item shop E allora Praticamente è uscito sto bundle Adesso dove Cabo era? Ecco infatti non mi ricordo più E' uscito sto bundle Dove appunto c'è questa skin Che tra l'altro è pure figa eh Per carità E praticamente dato che questo bundle comprende Già due oggetti che ho acquistato in precedenza Ad esempio Sonny che l'ho acquistata proprio quando è uscita la prima volta in season 8 Mi ricordo che è stato prima dell'evento finale Della season 8 Che l'ho acquistata E poi mi sono guardato l'evento E poi questa emote che l'ho acquistata così un giorno a caso Mi è piaciuta e l'ho acquistata E questa qua ovviamente non ce l'avevo Ma il pacchetto dato che è scontato Me l'ha scontato ancora di più Quindi questa skin mi viene a costare 500 V-Bucks Cioè mi costa meno di una skin verde Che costa 800 E mi costa anche 1000 V-Bucks in meno Quindi io onestamente me la sto andando a comprare Che mi prendo questa bellissima skin Super scontata E sti grandi cabbi raga GG Dato che c'è il pacchetto era scontato In più che già ho due item che non mi servivano E che già ce l'avevo Mi sono coppato una bella skin Che tra l'altro è pure veramente bella Tra l'altro mi sono anche comprato Ant-Man Ma questi qua sono dettagli Nel frattempo Dato che abbiamo questa nuova skin Ovviamente me la compro senza dubbio Scusate per ogni tanto qualche frame lag Ehm Perdonatemi Ehm Va bene Andiamo in partita Vedete già ero il laboratorio della battaglia del video di ieri Andiamo in partita e andiamo a vedere Com'è il punto 0 oggi Ok ragazzi Quindi eccoci di nuovo in game Come possiamo vedere Abbiamo Tutti i raggi Tutte le varie cose Il punto 0 là sotto E' molto molto simile la situazione E a quanto pare il punto 0 è diventato Sempre più viola Quindi in realtà Secondo me questa Questa inizio settimana Quindi fino ad oggi Quindi mercoledì Non so stasera Magari faccio un altro video Ehm Sicuramente non cambierà moltissimo Ehm Ma sicuramente Arrivando sabato Addirittura venerdì Sabato domenica Venerdì E poi il lunedì sicuramente Succerà qualche cosa Dato che poi di domani ci sarà la season nuova E quindi sicuramente nel fine settimana vedremo roba veramente interessante Magari siamo praticamente alla fine di questa settimana Manca domani che è già giovedì E poi venerdì sabato e domenica Quindi alla finire non sono tantissimi giorni Se ci pensiamo bene Anche perché mancano 6 giorni Ma sembrano molti di meno E oh Tra l'altro ragazzi Sta scendendo la notte La cosa Oh eccolo Nel frattempo ho fatto l'impulso Perfetto Vedete nel frattempo siamo anche di notte Che si vede molto meglio lo scenario E ragazzi Ultimamente Quindi stamattina Sono diminuiti gli impulsi Da Ehm Un totale di 4 minuti Fino ad arrivare a 2 minuti Quindi sta scendendo sempre di più La frequenza degli impulsi E soprattutto ragazzi I portali si sono spostati Cioè I raggi dei portali Si sono spostati tutti sotto il punto 0 Quindi vi ricordate che prima era uno di qua Uno di sopra Uno di qua Uno di là Mentre adesso sono arrivati tutti sotto E tra l'altro ragazzi Se noi notiamo bene comunque I raggi adesso sono visibili Nel senso Una volta i raggi Ehm Erano un pezzettino Poi tipo Erano invisibili E poi tornavano un altro pezzettino Fin quando non arrivavano al portale Invece adesso sono completamente visibili in gioco Quindi sono del tutto visibili Una volta Per un effetto forse Ehm Grafico Senza disturbare troppo l'occhio Forse avevano fatto questa cosa Ora A quanto pare I raggi sono completamente Al completo Quindi una volta Si vedevano sì e no Erano Diciamo invisibili In un pezzo Cioè Più che altro nel pezzo dove La gente non guardava mai Invece Partivano dal punto 0 Poi pian piano Andavano a smanire E poi si ricostruivano Tra virgolette Erano di nuovo visibili Quando arrivavano al terreno Nel portale E quindi ci sta Vi ho già detto appunto Il colore Le varie cose Ovviamente se lo vedete Un poco così Con non Con non moltissimi effetti Ovviamente è normale Tranquilli Perché ho la modalità Quella per limitare gli fps Quindi con la grafica Molto bassa E soprattutto ragazzi Vedete che si muovono In molto molto strani Quindi vedete Tipo pulsano Fanno cose E soprattutto Ci sono queste scie blu Che già ne avevo parlato Anche ieri Però magari Faccio un video recap Per chi Se lo fosse perso Quel video E come vedete Ha tutti questi impulsi viola Adesso Io volevo aspettare Di nuovo Che il punto 0 esplodesse Forse di nuovo Ci siamo E voglio farvi vedere Quest'altra pulsazione E poi Questa Quest'altra Esplosione Non saprei come dirvelo E poi andiamo a vedere I portali Perché la situazione Eccolo Perfetto Vedete come si muovono Tutti i portali E' veramente un effetto fighissimo Tutti i raggi Come si muovono Diventano Mi piace Ok Quindi adesso Che abbiamo L'altra fase Adesso direi Di andare direttamente Nei portali Vediamo se c'è la rigenerazione Ehm No Non c'è la rigenerazione Ah si Eccola E io ho bitoto Con la modalità creativa Che è molto grande Si vede molto Molto grande Non faccio molti Molti tagli In questo video Andiamo direttamente Direttamente Appunto Onestamente Mi secco Allora Potremmo andare Semplicemente A vedere il portale Ehm Quello Eccola Però Voglio andare Là sotto Dove c'è quello Di Antman Ehm Quello là sotto Aspettate che non so Spottare Ecco Ok Perché sono mouse e tastiera Non ho collegato il pad Perché mi seccavo Sono da pc Comunque Una piccola teoria Che io comunque Vi avevo detto Già che comunque Nelle prossime settimane Avrei fatto video Teoria Piuttosto che video news Che dato che Molte news Ovviamente Saranno mai Principalmente sul punto zero O più che altro E poi ovviamente Avrei fatto altri video Di tornei Come ho già fatto E comunque ragazzi La domanda mi sorge spontanea Ci avete presente Quando John si Guardate caso Quando è spuntato Da sotto la mappa E è arrivato E' arrivato proprio Là sopra E ha bucato Il punto zero Nel trailer Se ci fate caso E' proprio dove Johnny si è bucato Diciamo L'accesso al punto zero Quando lui si era entrato E' proprio Se ci fate caso E' stato proprio lì Dove è tutta l'origine Dei portali Quindi mi sorge spontanea La domanda Di dire C'è qualcosa di collegato A questo punto Non dovrebbe essere Troppo casuale Qua c'è il portale Come potete vedere I portali sono Sono tutti movimentati Se vedete Sono molto mossi E tra l'altro Hanno molti impulsi Frequenti Rispetto ai raggi Ma comunque Questo poco importa E come potete vedere Stanno cambiando Anche molto loro Il colore Come potete vedere Ci avviciniamo Un pochettino di più Vedete che Sono sempre più viola Più che altro Stanno assomigliando Più un colore di blu E comunque Sono sempre molto 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 mobili Si muovono Molto più velocemente Più frequentemente Rispetto ai raggi E al punto zero stesso E tra l'altro A quanto pare Forse stanno per sparire Molti sostengono Che questi I portali Pian piano Spariranno Andando avanti Con la settimana Ovviamente Probabilmente Sicuramente Non li vedremo più In season 6 Però questo ovviamente Non è Non è Diciamo Non prendete questione Le cose con le pinze Sono soltanto Oterie E cosette del genere Per quanto riguarda Invece La roba Di sì Che speriamo Che non ci sia All'interno Del Del gioco Speriamo Incrociamo le dita E il fatto Che ci sarà Probabilmente Il fumetto E già sto cominciando A parlare Di Molti posti Sono dei piccoli Spoiler Dove parla Semplicemente Di una Città Sotto terra E adesso Non vorrei dire Però in uno di questi Fumetti Che ancora deve uscire Tra l'altro Esce ad aprile Quindi considerate Il 27 aprile Una cosa del genere Considerate Sta cosa Appunto Perché Abbiamo Questo Fumetto Che già ci spoilerà Questa zona Non credo che magari Con l'esplosione Del punto zero In season 6 Ritornano Ulteriori città vecchie Quindi Condotti confusi Appunto Che dovrebbe essere La città Sotto terra Tra virgolette Mineraria Cosa C'erano tutti quei carrelli Quelle cose Da miniera E ci potrebbe stare Come diria Perché magari Il punto zero Continuando a stabilizzarsi Esplode E causa danni Come ha fatto Già in passato E come sta continuando A fare adesso In questa season È esposto E quindi Ha cominciato A buttare fuori città Come appunto Qua Laboratorio della latrina Il ristorante Quella di Pizza Pit Poi il Dur Burger La nave di Vichini Quindi alla fin Non è da escludere Il fatto che potrebbe Ritornare qualche vecchia città Perché appunto Dicevano che Tutte le cose Che vedevamo Nei fumetti Potevano essere Ricollegate Più o meno A quello che ci sarà Nel gioco E quindi se cambia qualcosa Nel gioco In ordine temporale Cioè se cambia qualcosa Nel fumetto O tra l'altro Sposo di nuovo Se cambia in ordine Cioè se cambia nel fumetto In ordine temporale Cambierà anche nel gioco Quindi ci sta questa cosa Io spero che non facciano Una season Interamente Di sì Quindi che Ma magari Alla fin viene Basta che si ricolleghi La storyline A me non interessa Basta che non fanno Una season a tema Interamente di sì Perché sennò Veramente Bruttissimo Non è che quella Marvel è stata Un trauma Figuriamoci Quella là E tra l'altro Ragazzi Quanto pare Tutti gli eventi Che ci sono stati Fino adesso Sono comunque Sempre collegati Johnny sì È stato collegato Galactus pure È una conseguenza Quindi a quanto pare Hanno confermato Il fatto che È tutto collegato Magari Non è che Galactus Aveva fatto una cosa Ed non era canonico Con la storia di Fortnite A quanto pare È tutto praticamente ufficiale E quindi Non servono altre robe Comunque ragazzi Speriamo che questo video Vi sia piaciuto Ho fatto un pochettino Un video di teorie Un video di curiosità E probabilmente Questa sera Magari Un altro video Sticabbi Però capite bene Che su YouTube È un discorso Pubblicare news Perché Giustamente Fare i video È molto più difficile Perché le news Cambiano da un momento All'altro Giustamente Ma non vi preoccupate Fare un video Ovviamente Aspetterò fino all'ultimo Secondo Vediamo fino a quando Arrivano le news E poi ci faccio il video Inutile che ogni piccolo News vada a fare un nuovo video Raccolgo un altro paio Di news Magari stasera E poi ve le porto Sul canale Comunque ragazzi Vi ringrazio ancora Per i 140 iscritti Vi ringrazio sempre In ogni video Perché sono veramente contento Grazie tantissimo Per il supporto E niente Quindi ci vediamo In un prossimo video E tra l'altro Fatemi sapere Che cosa ne pensate Della season 6 Cacciate fuori qualche teoria Se siete ai pati o meno